c'era da aspettarselo c'era da aspettarselo che tornavano alla fine gli Zemanini io li voglio chiamare così gli Zemanini non Zemaniani che gli Zemaniani sono morti Zemaniani ha finito gruppo Zemaniani closed ciao arrivederci però gli Zemanini quelli che continuano i prosciutti agli occhi di Zeman continuano continuano vai ancora e si continua all'infinito proprio fino a quando non ci sframicate le pelotas fino a quando non ci sframicate le pelotas perché sinceramente oh stavate aspettando stavate aspettando il primo mezzo passo falso del Pescara subito per venire a dire eh però l'anno scorso che Zeman ma che cosa eh però subito però l'anno scorso una partita come questa con Zeman l'avremmo vinto sì veramente e perché non è vinto quando ci sta in panchina Zeman continuiamo ancora ma adesso vogliamo cominciare a mettere in discussione pure Piloni che da quando è sulla panchina del Pescara in campionato dall'anno scorso ha perso il due partite l'anno scorso sempre in 11 contro 10 per il resto lui feghe a voi si come sta a fare il fegato a voi che vi state a tirare che Piloni il Pescara andava male senza ma perché per me Ben Ali è più importante io alla mezzala non serve perché avere Brugman che fa mezzala senza di quello senza di quello lì voi state male sentitevi voi state male perché voi non siete tifosi del Pescara quelli che fanno così secondo me hanno qualche problema esistenziale perché se siete tifosi del Pescara siete tifosi del Pescara cioè per quanto io possa ammirare Zevan per la sua carriera per il gioco che ha proposto per ciò che ha fatto comunque in carriera non ha vinto uno cazzo di niente quindi i grandi allenatori vincono i grandi allenatori vincono i grandi allenatori quelli che dopo ci stanno quelli che fanno pure il bel calcio ma ce ne sono tanti anche oltre Zevan che però non vincono nel calcio alla fine conta chi porta la casa il trofeo e vince non conta chi fa le chiacchi il bel gioco qua papà papà quindi di chi stiamo a parlare ciò che non capite state già paragonando è perché l'altro chiedi col Padova se il mister non faceva i cambi difensivi se continuavamo ad attaccare come faceva Zevan noi col Padova avremmo vinto e chi ve lo dice e io mi dico che forse forse la perdavamo pure con Zevan in una partita del genere ma quante partite abbiamo fatto così con Zevan lo scorso anno eh qualcuno mi dice no perché l'anno scorso a Salerno la Sernitana pareggia sulla partita così con noi raga c'è da premettere una cosa con la Salernitana lo scorso anno è vero vincevamo 2-0 ma però non siamo stati mai padroni del campo come lo siamo stati ieri sera col Frosinone quando vincevamo 3-0 in casa e comunque Salernitana e Frosinone sono partite di inizio anno perché poi il Pescaro dopo le prime 4-5-6 partite non ha fatto mai più una prestazione che era passata in vantaggio e poi si è fatto recuperare anzi siamo andati quasi sempre in svantaggio e quando siamo andati in svantaggio non l'abbiamo mai ripresa nella partita l'abbiamo sempre persa tutte quante quindi di chi vogliamo parlare comunque dicevo prestazioni come quelle con la Sernitana col Frosinone non rispecchiano minimamente la prova che ha fatto ieri sera il Pescara l'altra sera il Pescara con il Padova ha fatto vedere una squadra molto molto in crescita giocatori che sanno cosa fare un'idea ben definita di gioco con 11 persone che tentano di farla e soprattutto una squadra che impone il proprio gioco che fa in campo quello che vuole il Pescara nel secondo tempo ha fatto il Torello 40 minuti di Torello in mezzo al campo Torello quindi napiate uno pallone il Padova prova ne è prova ne è che Bisoli ha detto il Pescara c'era il centrocampo più forte non ci hanno fatto vedere il pallone cioè il centrocampo del Pescara è illegale è illegale sono illegali e se pensiamo che in Bagnia abbiamo gente come Palazzi Meleconi Crecco Canutee è uno squadrone il Pescara abbiamo uno squadrone e nel momento in cui ci convinciamo di essere forti perché noi adesso ancora sappiamo la nostra forza ci stiamo scoprendo ora però nel momento in cui capiremo la nostra vera potenzialità vedrete che faremo sfracelli secondo me perché siamo veramente una bella squadra ben messe in campo quadrati anche ieri fino al novantesimo non avevamo subito quasi nulla se non l'azione quella di Cisco dove Fiorillo ha deviato la palla sul palo solo quella l'unica azione veramente pericolosa del Pado nella partita una per il resto tiri fuori lo specchio oppure tiri stupidi centrali che Fiorillo ha bloccato tranquillamente e noi abbiamo fatto il nostro il nostro calcio giocando a centrocampo fraseggiando ripartendo in velocità nelle ripartenze perché dopo che c'è il 2-0 allo cinquantacinquesimo non è che ti butti in avanti come 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 gli Zemanini vorrebbero come gli Zemanini vorrebbero cioè questo è il problema che qua stiamo a pensare dopo un 2-0 a Padova fuori casa al 90 non c'è gente no però l'anno scorso col Zeman e basta con sto Zeman basta è il passato mettetevele in goccia mettetevele in goccia Zeman sta in pensione via Tor Vergara 433 ci trovate Zeman pensione Zeman sta là via Tor Vergara 433 io te lo trovate a Roma lo trovate nella sua pensione Zeman perché io quest'anno non lo vedo che allena ho pensato che lo chiamassi Real Madrid dal posto di Zidane però non l'hanno preso o sta aspetta che cacciano quello Mourinho dal Manchester United e vandrà lì forse o aspettava il Chelsea però l'hanno dato a Sarri quindi io non lo so perché un allenatore un maestro di calcio così spettacolare non viene preso forse la Serie C è troppo poco per lui io in Serie C non voler allenare perché mio calcio non è Zemanini rassegnatevi rassegnatevi è inutile di cunire da pensare Zeman Zeman picche Zeman perché la settimana scorsa la settimana scorsa Benali Benali Hamad Benali l'ex numero 10 del Pescara va fatto vedere di che cosa era capace di fare in campo da solo ve la fate vedere che cosa è capace di fare Hamad Benali però pensiamo a non essere buono con lui perché Benali tenia a fare l'esterno sinistro ma se il giocatore ti dice che là non ci vuole giocare perché non si ritrova non riesce a entrare nei meccanismi lui è una mezzara picche tu mi fiuca nel ruolo suo quello che il giocatore ti dice a mister io la vuoi giocare perché mi sento meglio lì no Benali non serve mezzala io volere Benali esterno perché deve portare borracce da panchina e dopo se ne è lucratone capito grazie Zevan questo è quello che hai fatto l'anno scorso tu stuccio è presuntuoso questo è stato l'anno scorso e io sinceramente dopo io sinceramente dopo lo scorso anno ho rivalutato anche ho rivalutato anche la stagione di sei anni fa perché fino a quando fino all'anno scorso dicevo sei anni fa il pescar di Zeppi il pescar di Zeppi ha fatto paura il pescar di record io cominciò a rivaluta pure il campionato di sei anni fa ma non è che fosse che veramente sei anni fa lui ha fatto il lui campionato perché in squadra ci sono quei giocatori forti parlo di Insigni Verratti Immobile Cascione e Compagna Cantante cioè quasi quasi mi balena l'idea che è Kussu su mito di Zeppi che ci sta ma guarda caso ha fatto sempre bene quando nelle squadre ho trovato quelle persone che poi si sono rivelate dei fenomeni quando gli metti in squadra dei giocatori che non sono fenomeni ci esce la merda dello scorso anno come al solito perché Vindacon di Zeppi cari Zeppi ha fatto bene a Foggia chi la Lazio ha fatto bene quell'anno a Pescara e dopo in tutta la sua carriera io mi ricordo con la Roma l'hanno cacciato Salernitana cacciato Avellino retrocesso Pescara anno scorso anno mi sa col Fenerbaceo in Durkia è stato pure non è andato bene ha provato allena la Stella Rossa lo hanno cacciato per troppa pare che lo hanno cacciato per troppa professionalità c'è l'unico allenatore che in pratica dice che l'hanno esonerato per la troppa professionalità c'è qualcosa che non quadra in tutto ciò quindi Zemanini toglietevi il prosciutto dagli occhi e non è perché una persona ha fatto bene qui a Pescara un anno non si debbano riconoscere poi gli errori che la stessa persona commette anni dopo cioè abbiate un po' di Sawarfer capite cercare di aprire gli occhi la mente le orecchie e analizzate bene ciò che è accaduto perché la colpa si è anche di Pinocchio però Zeman ci ha messo tanto del suo quindi adesso vi faccio un appello mi imbarle micchio di Zeman per favore pensiamo il Pescara è quello di adesso mo 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 ci sta pillone in bambina pensiamo al Pescara di pillone pensiamo a quest'anno l'anno scorso cancille facciamo che sia diventato l'anno zero l'anno scorso lo Pescara non ha jugato la campionata è meglio sentite a me ok adesso vi saluto mi raccomando pollice in su se vi piace commentate qui sotto nei commenti condividete il video e se ancora l'avete fatto iscrivetevi al canale qua iscrivetevi qui sotto cioè iscriviti iscriviti al canale ci vediamo alla prossima sempre forza le scala ciao a tutti